Angela Di Foggia, candidata per Sinistra al Lavoro, un impegno per l'occupazione? Sì, sicuramente noi ci impegneremo a far sì che si creino posti di lavoro nella nostra regione, in particolare anche la provincia di Caserta in genere, perché è stata una disoccupazione, c'è un aumento della disoccupazione soprattutto nelle nostre terre, per la questione anche della Whirlpool, sappiamo benissimo tutta l'avvertenza che ancora oggi è in atto, oggi i lavoratori della Whirlpool sono a manifestare con tutti i sindacati proprio fuori da qui in effetti, proprio perché non c'è via d'uscita e questo farà sì che i nostri territori saranno abbandonati, territori che prima industrializzati, completamente distrutti e denaturati della propria identità e poi lasciati all'abbandono totale. All'abbandono totale non solo per quanto riguarda la terra che ormai è stata deturpata, ma soprattutto perché ci sono persone che non avranno più come andare avanti, famiglie completamente distrutte che non avranno più un reddito per poter andare avanti e soprattutto ci sono bambini, i bambini che durante la festa del primo maggio hanno manifestato il loro dispiacere a non poter andare avanti a causa della perdita del lavoro della propria mamma e questo per noi è importante, il lavoro è fondamentale per avere dignità e libertà di scelta.